Punti pesanti in chiave salvezza al comunale di Castelnuovo Vumano. Si parte con grande equilibrio e con entrambe le squadre che provano a far male alle rispettive difese. La prima a riuscirci è il Castelfilardo che passa dopo soli dieci minuti con il gol di Capitan Bracciatelli che è bravo a segnare da distanza ravvicinata, bucando la porta dei padroni di casa. Ci si attende la reazione del Castelnuovo ma in realtà il Castelfilardo ha un'altra opportunità. Pochi minuti dopo bravissimo a salvare Sanseverino su Braconi vicinissimo al raddoppio. Reagisce sul finale di primo tempo il Castelnuovo che ci prova e soprattutto il momento più importante sul finale della prima parziale è l'espulsione per doppia munizione di Fayet che al 39esimo lascia i suoi in dieci uomini. Rientro in campo dopo l'intervallo il Castelnuovo ne approfitta pareggiando dopo 12 minuti con la ribattuta vincente di Sparboli. I marchigiali non si accontentano del pareggio nonostante l'inferiorità numerica ma pagano caro questo coraggio. Su un'azione offensiva degli ospiti il Castelnuovo infatti recupera e lancia in contropiede uno scatenato Capitan De Giglio che dribbia tutto il Castelfilardo e la ribalta al ventesimo. Gli ospiti ci provano ma le occasioni più nitide sono del Castelnuovo con Scacco e Bubalo. Finisce 2-1, i neroverdi tornano al successo dopo 3k o filati e agganciano a quota 23 il Castelfilardo portandosi a meno 5 dalla salvezza diretta. Sì, che potessimo incontrare difficoltà, gli avevo detto perché questa è una squadra che abbiamo affrontato oggi, una squadra molto aggressiva, sicuramente ho messo una squadra in campo oggi di gente che doveva lottare e quindi abbiamo fatto fatica magari a costruire l'azione, però poi sicuramente avvantaggiati anche dal rosso della loro squadra. Poi la squadra si è sciolta e ha cominciato a giocare, ad essere cattiva in tutte le parti del campo e alla fine è arrivata questa vittoria molto meritata. Aspettavamo da tanto questa vittoria e vi avevo accennato nelle precedenti interviste che la squadra stava facendo il suo dovere ogni domenica, dopo magari episodi non ci hanno fatto vincere le partite, diciamo, o meglio ce le hanno fatte perdere, però la strada era quella da seguire, vi avevo detto che dovevamo portarci la fortuna da nostra parte con l'atteggiamento, con la determinazione, con la cattiveria e oggi questa squadra ha dimostrato appunto di esserci e che fine alla fine si giocherà la permanenza in questo campionato.